Bella a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale, bentornati con il terzo video giornaliero per quanto riguarda le sfide della settimana numero 7 di Fortnite. In questo video ci andremo ad occupare della missione che richiede di visitare diversi luoghi indicati in una sola partita. Innanzitutto amici, cosa sono questi luoghi indicati? Questi luoghi indicati non sono nient' città che sulla mappa hanno un nome, quindi dovrete visitare 4 di queste città. L'unica difficoltà che si può trovare all'interno di questa missione è che bisogna visitarle in una sola partita. Quindi amici adesso vi vado a far vedere quelle 4 città che ho visitato io e che secondo me sono le più facili. Quindi sono atterrato a passatempi pomposi, ho preso una macchinetta, quindi come vedete mi dava subito una di 4, mi sono diretto verso il crocivia del ciaffame, quindi una volta mi sono avvicinato mi ha dato 2 di 4, sono andato poi verso Montagnone Maledette ed infine verso Parco Pacifico. Ho portato il video su questa missione perché secondo me alla fine all'interno delle sfide settimanali questa era quella forse un pochino più complicata. Vi ricordo che in descrizione lascio il link di tutte le sfide delle settimane passate, quindi se qualcuno di voi ha dimenticato appunto di portare a termine una determinata sfida e non sa come fare può trovare il link della missione sotto in descrizione. Ed in descrizione amici lascio anche i link dei due video di questa settimana, quindi il video sulla stella segreta ed il video sulla mappa del tesoro. Come sempre spero il video vi sia stato utile, lasciate tanti like con un commento, fatemi sapere se secondo voi questa è la sfida più difficile all'interno di questa settimana, condividete il video, iscriviti al canale per non perdere tutte le prossime guide e come sempre vi ringrazio la visione e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti